Un ritorno a dir poco trionfale per una brutta serata del Grifo, tu che ce l'avevi nel cuore, ti ha fatto piacere gli applausi del Curi? Sicuramente per me non era una partita come tutte le altre, era una partita sicuramente speciale perché ritornare qui al Curi, vedere tutta quella gente che comunque alla fine sono stati anche i miei tifosi, in un anno strepitoso mi ha riempito il cuore di gioia. Un po' meno vedere il Grifo così perché per me posso dire che è la seconda squadra per cui tifo, quindi quando il Grifo va male un po' mi dispiace. Però ieri noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, ci tenevamo a fare il risultato, a portare a casa punti per la salvezza, ci siamo riusciti e ringrazio veramente tutte le persone che mi hanno applaudito. È sempre brutto chiedere un giudizio all'avversario, come l'hai visto il Perugia ieri? Ho visto un Perugia un po' in difficoltà, un Perugia che pensava a voler fare la partita però non ci è riuscito, forse anche per merito nostro che siamo stati bravi nel non farli giocare liberi e poi secondo tempo siamo stati bravi a ripartire, a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Il tuo allenatore è Serse Cosmi, forse una delle persone più amate qui a Perugia, tu come lo giudichi? Sicuramente il mister è un personaggio che si fa volere bene da tutti e a Perugia comunque a casa sua anche lui ha fatto bene e penso come me anche lui ha il Perugia nel cuore e quindi vedere il Perugia così fa male anche a lui. Però comunque lui è una persona eccezionale, ripeto, una persona che si fa volere bene da tutti e anche noi con lui ci troviamo molto bene. Senti, alla luce del risultato del Curi di ieri sera, il vostro campionato cambia? Il nostro campionato non cambia perché il nostro primo obiettivo è sempre la salvezza, quindi dobbiamo cercare di arrivare quanto prima possibile a quota 50 punti e poi dopo vediamo cosa possiamo fare. Cosa vuol fare da grande Scoglioniglio? Da grande, sono già grande, sono comunque abbastanza grande. Spero veramente di raggiungere più presto la salvezza col Trapani e poi vediamo, adesso l'unico obiettivo è questo. Come ti trovi a Trapani? Trapani è bene, è una città carina, c'è il mare, è l'ambiente ideale per lavorare bene, stare tranquilli, quindi mi sono trovato molto bene. Poi conoscevo già il direttore, quindi mi sono ambientato subito bene. Se vuoi fare una ura ai tuoi ex tifosi? Rivedere il grifo più in alto possibile.